Ciao amici, sapete quanti italiani soffrono di colesterolo alto? Nessuno perché seguiamo la dieta mediterranea. Sarebbe bello ma un italiano su tre soffre di colesterolo alto e di questi quasi la metà non sa di questa condizione, aumentando il rischio di malattie gravi come ipertensione e cardiopatie. Lo dice la SPIREC, Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare, in collaborazione con il CNR e la Fondazione Italiana per il Cuore. Per fortuna la scienza ci aiuta con un rimedio naturale inaspettato, protettivo di cuore, circolazione, fegato, è ottimo per fare prevenzione contro pressione alta, colesterolo alto, fegato grasso. E c'entra la dieta mediterranea, guarda un po'. Qual è, qual è? Ve lo dico subito, ma prima mettete un bel mi piace a questo video e iscrivetevi al canale attivando tutte le notifiche. Il cibo in questione è? Il limone. E il merito è della vitamina C e della vitamina E, due potenti antiossidanti. Lo afferma uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition. Nell'esperimento, 36 ragazzi forti e sani hanno seguito per un periodo una dieta ricca di grassi saturi, davvero poco sana per cuore e circolazione. Dopo un primo periodo, i ricercatori hanno iniziato a integrare la loro dieta con il limone e i valori dei grassi saturi e colesterolo cattivo LDL si sono decisamente ridotti. Adesso andiamo a farci un succo di limone. Io ne bevo un po' ogni mattina con il mio bicchiere di acqua e limone come spiego in questo video. E non solo il succo, ma anche la buccia di limone ha effetti bruciagrassi e utili per il controllo dei grassi saturi. Potete usarla facendo il canarino come spiego in quest'altro video. Interessante, vero? Aiutatemi a diffondere le informazioni utili dei miei video, condividendo quello di oggi e abbonandovi al canale per sostenere il mio lavoro. Se siamo in tanti, con un piccolo contributo mensile, possiamo fare la differenza. Info in descrizione, dove trovate anche il link ai miei libri ed ebook per il vostro benessere. Mangia sano e vivi meglio!